Una volta installato l'impianto fotovoltaico, i clienti desiderano essere certi che sia possibile usufruire di molti anni di produzione di energia solare. Questo breve video illustra alcuni concetti riguardanti l'inverter fotovoltaico e il modo migliore per effettuarne la manutenzione. Innanzitutto una breve descrizione del ruolo che l'inverter svolge all'interno dell'impianto fotovoltaico. In parole semplici, l'inverter converte l'energia prodotta dai pannelli solari garantendo la fornitura della massima quantità di energia possibile per l'abitazione e la rete elettrica. L'inverter fotovoltaico rappresenta il cuore e il cervello dell'impianto a energia solare. Non solo prende decisioni intelligenti relative alla gestione dell'energia, ma invia anche la quantità di energia ottimale dove occorre, all'abitazione o alla rete elettrica. Gli inverter Aurora Power One presentano determinate caratteristiche tecnologiche che consentono di aumentare l'estrazione di energia dai pannelli nei periodi in cui le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli o quando i pannelli solari sono parzialmente ombreggiati. L'intervallo di tensione ed ingresso estremamente ampio degli inverter Aurora consente di estrarre energia anche a livelli minimi, ad esempio nelle prime ore del mattino o in tarda serata, in modo da estendere la produzione energetica giornaliera. Anche la tecnologia del WMPPT, acronimo di Maximum Power Point Tracking ad alta velocità, contribuisce ad aumentare l'assorbimento di energia, permettendo la suddivisione delle stringhe di pannelli solari in due canali separati. Se il tetto è orientato sia a est che a ovest, il WMPPT assicura la massima produzione in modo indipendente, ovvero dai pannelli rivolti a est di mattina e da quelli a ovest nel pomeriggio. In condizioni di scarsa luminosità, la scansione MPPT consente di minimizzare l'effetto sul rendimento delle stringhe dei pannelli solari. La presenza di nuvole o alberi che impedisce alla luce solare di colpire l'intera stringa di pannelli può ridurre la quantità di energia prodotta. Test indipendenti hanno dimostrato che gli inverter Aurora offrono le migliori prestazioni della categoria in termini di velocità di ritorno alla massima efficienza. Gli inverter Aurora installati nelle abitazioni sono dotati di un solido alloggiamento esterno e richiedono una manutenzione minima. Per mantenere prestazioni ottimali è consigliabile tenere l'inverter pulito in modo da garantire che il dissipatore di calore situato nella parte superiore dell'inverter sia sempre libero e privo di ostruzioni. È possibile visualizzare la quantità di energia prodotta dall'inverter fotovoltaico in tempo reale seguendo queste istruzioni sul pannello LCD dell'inverter. È possibile impostare la lingua desiderata sull'inverter. La schermata di default dovrebbe essere simile a questa. Grazie ai pulsanti dell'inverter è possibile modificare la vista dello schermo LCD. Per modificare la vista è sufficiente usare i seguenti pulsanti. Il manuale prodotto contiene le risposte alle domande più frequenti relative all'inverter. In caso di problemi è consigliabile consultare innanzitutto l'installatore. Se il problema persiste è possibile contattare Power One attraverso la sede di assistenza locale. I dati di contatto sono disponibili nel manuale o nel sito web di Power One. L'inverter fotovoltaico Aurora Power One è progettato per fornire anni di energia solare senza problemi. L'obiettivo di Power One è produrre inverter non solo estremamente efficienti e resistenti ma anche in grado di offrire le prestazioni più elevate per aumentare al massimo l'energia prodotta tramite i pannelli solari per l'intero ciclo di vita dell'impianto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS